Non te l'ho fatto più Ho un grillo per la testa, ho un grillo per la testa Ma un politico che era indagato c'aveva vergogna Occupiamo il Parlamento, dobbiamo fare le commissioni perché il Parlamento così può funzionare Siamo sulla cosa, siamo sulla cosa in diretta Marcello Non le fanno apposta perché così mantengono questa situazione di stando Se formassimo le commissioni non ci sarebbe questa situazione di stando Verrebbe ripristinata la centralità del Parlamento Invece evidentemente non fanno le commissioni per addossare la colpa di tutto questo al Movimento 5 Stelle Che non si allea né col PD né col PDL Perché lo vorremmo chiarire, rifiutiamo di fare alleanze con partiti che fino ad oggi hanno soltanto fallito E che hanno creato questa situazione e che hanno portato l'Italia in questo stato Vado a dire con un debito del 120% in Italia e con un debito di 13,07% a Roma Quindi con partiti che hanno fallito noi non ci alleiamo a nessun livello, né in Italia né a Roma In 17 anni da personaggio pubblico non ho mai espresso fino a sei mesi fa il mio orientamento politico L'ho fatto quest'estate venendo proprio a Montecitorio, una delle primissime manifestazioni Prima delle elezioni poi quelle avvenute E ho appoggiato da subito un'idea che è quella di ovviamente portare nei palazzi i cittadini che sono lontani anni luce dalla politica Perché non ti presenti tu alle prossime elezioni? Sul serio pensa che è bello Avere Beppe Grillo come presidente del Consiglio Sarebbero contente milioni di persone se avessimo un comico al posto di un buffone Ciao